piccolo pro memoria per le scale allora le scale le eseguiamo a 60 di metronomo e questo quindi facciamo la prima volta a minime sciolte poi le facciamo semi minime sciolte poi le facciamo semi minime legate 4 a 4 battuta per battuta d'accordo? l'arpeggio lo facciamo a semi minime sciolte e legate 3 a 3 cioè battuta per battuta grazie